C'era anche il Vice Ministro alle Infrastrutture Galeazzo Vignami a Mercatello sul Metauro ieri pomeriggio insieme al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, i parlamentari marchigiani, Onorevoli Baldelli e Carloni, Senatrice Leonardi e il Sottosegretario Onorevole Albano e alcuni assessori e consiglieri regionali per proseguire e accelerare i tempi su una delle incompiute più grandi delle Marche, la Galleria della Guinza. Sin dal suo insediamento la Giunta Acquaroli e l'assessorato alle Infrastrutture aveva fissato un obiettivo chiaro, i cantieri sulla Galleria della Guinza per sbloccare l'incompiuta delle incompiute del centro Italia, che non è soltanto un'incompiuta ma blocca lo sviluppo della provincia di Pesaro Urbino e delle Marche. Per quale motivo? È un collegamento diagonale, un itinerario europeo, un itinerario internazionale che permetterebbe l'abbattimento dei tempi di percorrenza tra Marche, Umbria e Toscana e tra 36 centri provinciali del centro Italia, il che significa sostenibilità, sostenibilità ambientale perché abbattere i tempi significa anche abbattere le emissioni di CO2 nell'atmosfera, sostenibilità sociale perché permetterebbe di riportare la regione Marche tra le regioni più sviluppate, così come era negli anni passati che per poi scelte sbagliate politico, tecnico e amministrativa ha fatto sì che l'Unione Europea trasformasse la nostra regione tra una delle regioni più sviluppate d'Europa, quindi regione sviluppata, regione in via di transizione. La presenza ieri del Vice Ministro è stata una testimonianza chiara della giustezza delle nostre posizioni rivendicate nel tempo. Poi con una notizia di tempi certi per la cantireabilità dei lavori finanziati nell'ultimo comitato interministeriale per la programmazione economica presieduto dal capo del governo, onorevole Giorgia Meloni, con i quali si sono stanziati 150 milioni per l'adeguamento della canna esistente della guinza, ma si è anche certificato il completamento della prima fase progettuale per la realizzazione della seconda canna della guinza, per i quali nelle prossime settimane avremo dei tavoli tecnici per valutare come procedere. Perché come dicevamo in precedenza, l'intero itinerario dovrà essere a quattro corsie, anche se realizzato nel tempo a stralci, dopo 40 anni di disinformazione anche su questo itinerario internazionale, su questa arteria stradale fondamentale per il centro Italia. Ma a questo si aggiunga anche il finanziamento della progettazione delle brettelle di collegamento delle nostre valli alla Fano Grosseto, ossia la Carpegna Lunano, Lunano Sant'Angelo Invado e la Fabriano Sassoferrato-Pergola-Fossombrone, al quale si aggiunge però un'ulteriore volontà della regione Marche, il completamento della Pedemontana nella zona nord della nostra regione, ossia il tratto Sassoferrato-Cagli, per il quale la regione proprio il 31 dicembre di quest'anno ha scritto alla provincia che doveva completare quella progettazione per la quale era stata incaricata nel 2005 e che se ne farà carico la regione perché vogliamo i cantieri anche sulla Pedemontana nel tratto nord della nostra regione.